Buongiorno, buongiorno, come state? Allora, non ho neanche fatto colazione perché non ho fatto la spesa, se vi ricordate, quindi adesso per compensare vado a ingozzarmi di sushi che sarà sicuramente terapeutico e così mi sveglio fuori. Andiamo a mangiare il suo sushi. Sono andando con una mia amica che poi devo aiutare appunto nel suo progetto dell'università e quindi facciamo un po' di video anche dopo. Dove sei? Dove stai Nasti? Ho appena mangiato il sushi con la Nasti, si vede la panza. Oggi dobbiamo fare un video della tesi. Dobbiamo fare un video della tesi e devo dimostrare a questa ragazza che questa videocamerina non è così scandalosa come pensa, ma anche può fare il suo, o no? No, sì. Assolutamente. Adesso niente, si fuma. Mamma mia, l'ho morto. Sono morto stecchito, ti giuro. Sono questi gli uffici? Allora sì, qui dentro c'è il co-working, lo spazio di co-working e qua dietro tutti i vari uffici delle persone. Poi andando in qua ci sono delle stanze che sono più al buio, dove c'è adesso momentaneamente esposta una mostra. Invece noi entriamo da qua dentro e cambiamo la libera uscita per lo studio. quello che c'è il mio bisogno, eccetera, eccetera. Maracca che bello. Qual è il tuo angolino, questo? Ma in realtà ho usato un po' tutto. Ho usato sia quello sfondo lì sia di qua perché c'era più luce di qua ieri perché lì in quei due lì è già un po' più buio e principalmente ho usato un po' questi sfondi qua. Certo. Poi vorrei fare una ripresa dall'alto. Sempre divertente cambiare impostazioni della Sony. Sempre un botto e roba che non capisci perché lì. Dobbiamo fare un cavo che va da sopra e appena c'è una videocamera e quindi abbiamo dei cavi da elettricisti che non c'entrano assolutamente niente per non comprare dello spago. C'è. E' dritto? Ci permette un po' più alto forse? Facciamo qui in qua? Eh sì. Poi che fece la voce? Eh, no! Perfetto, forse è anche troppo. Troppo perfetto. Sara ci descrivi cosa sta facendo? Mi sta cucendo dei pezzi di corpo. addosso al corpo, che ho già. Ok. Va bene. Stiamo dividendo il corpo nelle proporzioni classiche greche, ovvero le proporzioni della perfusione. Che sarei io. Ok. Ok. Allora ragazzi, qua abbiamo quasi finito, siete lì appesi. e la produzione di questo video è tipo un budget di milioni, incalcolabile. noleggiati dei crane, noleggiati delle attrezzature incredibili per tenere in quella posizione lì, con una precisione chirurgica. Cioè, un palo, vediamo se mi prende qua. No, è troppo sofferto. Allora, non so se vedete, ma lì in alto siete collegati ad un cavo, collegato prima lì, e poi questo viene giù. Viene giù, eccolo qua, viene giù e si collega a quella luce. La precisione. E tutto questo per fare una ripresa dall'alto, da distesi. Mentre pulisci ce ne leggo l'acqua. Mentre pulisci. Non funziona, porco due. Più veloce. Di più forte. Più veloce. Più veloce. Sì. Possiamo fare un questone. Basta. Non basta. Un po' ancora pronto. Poi abbiamo i pacini. I pacini, i pacini. Le gambe niente? Qualcosina dopo? Eh sì, guarda. Abbiamo dei pensieri intrusivi qua dentro. Allora, più o meno qua. Dove scegliere un bellico. Un bellico. Un bellico del mondo. Il mostro strastistra. Il mostro sta prendendo forma, pian piano. Ti senti a tuo agio a te? Sì, certo. Meno male che sei ben remunerata. Sì. A te. E a me. Torni a te. Vai pure. E poi Aragno vai via. brava brava bravo la forza dell'amicizia cioè sei tu la mia protagonista sì lo so però sono anche una nascente ballerina quindi si sta provando a cucire un preservativo da faccia questa faccia come l'operato qua piccolo ma giocherellone aspetta ripresa non puoi scappare qua fai una smorfia ok credo che già sotto sia una smorfia cosa dici lori secondo te funzia sì ok allora prima che sembra ti dico sembra un po un po sadomaso così a vederlo questo vestito credo questa si chiama seghe mentali con protezione esatto ok cosa dici qua va bene cose allora ho fatto partire facciamo di nuovo tik tok come ieri per l'animazione no secondo me ci si deve muovere così la nuvoletta disegnata o gliela faccio io direttamente al computer la puoi fare direttamente al computer ok stop e adesso la facciamo uguale senza quindi se vuoi tolgerla la puo si vede un pelo il viso ma secondo me riesco a toglierla e aspetta ti tolgo anche tutto questo com'è impressioni a caldo 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 com'è stato com'è stato è stato come essere da un'altra parte tipo dentro un mondo verde finito finite le riprese ora andiamo all'edicola cosa è questo allora questa è un'edicola edicola con la cappa se vuoi inquadrare il logo inquadriamo ok ok e qui abbiamo un'esposizione di prodotti editoriali indipendenti e arte giovane questo è questa edizione che è un'edizione del primo maggio abbiamo voluto abbiamo scelto selezionato artisti che fossero impegnati a livello a livello sociale ok ok sono impegnati anche a livello politico infatti si possono vedere prodotti di tutti quanti di artisti veronesi e non che sono tutti stati selezionati da me e la mia co... compare la mia co e... la tua bro la nasta anche qua no dai hai letto che sketch quello di Napol- La cittazione di Napoleone III questa no 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 tipo essere dittatore ragazzi parlando del tempo che non si capisce mai nulla e adesso ci sono chissà 15 gradi e inizia a far vento tutta l'acqua per noi esatto esatto cabari fammi vedere oh dio I love you basta ha iniziato a piovere e quindi non ha neanche più senso a star fuori e io devo adesso un po' sistemare qualche casino farmi la cena mi salvo e mangio tipo pollo pollo e riso magari quelle cose un po' da palestra per magari rimanere in forma kebab e niente devo iniziare un po' a editare qualche video sistemare le memorie e sbagolare un pochino quindi ci aggiorniamo dopo bene ragazzi bene allora le cene si fanno di classe quindi stasera mi mangio due pomodori del formaggio dell'altra sera e del polo e del polo mi mangio vedere vai giù zac il poletto direttamente dalla gastronomia e e quindi poca cucina stasera non ho cazzi devo anzi poca cucina non cazzi devo pulire la cucina però non ho voglia di cucinare più di tanto anzi qua devo anche far partire la friccia e la friccia non so la lavastoviglia ok ci sono già un pochino di loro sport quindi adesso mi scaldo questo microonda rilassato e poi mi sono preso conto che tipo sono così boomer che ho sbagliato anche a caricare il video nel senso che dovevo uscire un giorno prima quindi i video che vedete in verità sono due giorni prima cioè io faccio le cose oggi lo edito lo carico e va in onda non domani dopo domani ma non l'ho fatto apposta però adesso ho iniziato così quindi io carico due giorni due video in un giorno o un giorno magari salterò il video e che è probabile anche perché non penso che riuscirò a fare video tutti i giorni anche perché ne parlano tutti che è tipo da che è massacrante che non è piacevole per mental health e queste robe qua quindi penso che continuo tutti i giorni seguirò il consiglio degli youtubers più aggueriti però e ho sentito un colpo un altro eh stai prendendo vita un poleto lasciamo lì lo sbattiamo perché sono cattivo e quindi starò cauto con calma faccio quello che mi sento mi piace alla fine fare video ma non voglio dedicarci più in termini di editing voglio rimanere sulla mezz'ora al giorno voglio che rimanga un pochino un piacere proprio adesso mi sta piacendo anzi cioè l'ultimo del mio primo video ha ricevuto la bellezza di 10 like che è un numero ridicolo su youtube parliamoci chiaro però era tanto che non le ricevevo 10 quindi a voi ragazzi magari questo format piace a me fa piacere la spontaneità ho l'impressione guardando i nostri risultati come collettività e appunto che non siano proprio dei grandi risultati presente quel sughetto lì che vai lì a far scarpetta che tra l'altro ho utilizzato il pane che ho fatto io da brava casalinga quindi io tipo di solito di solito ogni domenica da qualche settimana mi faccio tipo una pagnotta da un chilo e mezzo me la taglio mi faccio bruschette panini di tutto di più durante la settimana e faccio il gradasso insomma allora non so se uscire stasera mamma mia e penso che mi faccio una tisanina mi metto in camera col proiettore mi guardo un filmetto immortali detto questo allora grazie ancora una volta per aver visto il video mi raccomando ricordatevi che io qua non è che abbia un team qualcuno di sviluppo no sono da solo e spiego solo che soldi in attrezzatura quindi visto che youtube non mi paga zero ma neanche da dire due euro al mese no zero mi farebbe piacere se voi mi incentivate a fare questa cosa quindi lasciate commenti mettete mi piace comprate la maglietta ho il codice di sconto in descrizione no dai raga lasciate i commenti che mi fa solo che piacere così continuo a fare questa cosa grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.